Potete immaginare nel momento in cui è scoppiato il Covid, forse quella collocazione non era più adeguata per un reparto di oncologia, anche perché il pariglione di malattie infettive aveva bisogno degli spazi necessari per poter seguire tutti i pazienti che erano affetti da Covid. Quindi rapidamente, nel giro di pochi giorni, siamo stati trasferiti qui, siamo stati trasferiti al Dea, al settimo piano, dopo qualche giorno anche il dei ospital che era ai reparti speciali è stato trasferito al Dea e quindi lì siamo rimasti fino a poco, un mesetto fa, dopo la ristrutturazione di questo reparto, l'intervento di cancro primo aiuto per tutti gli arredi, per le porte, come ha già citato il Dottor Manfredi, siamo riusciti a dare i vari spazi che come potete vedere che sono luminosi, sono ampi, abbiamo spazi per i medici, per gli infermieri, per i pazienti soprattutto, ma anche per i familiari. grazie a te, prego, sono diretto e vorremmo portare tutti questi spazi.